benvenuti in questa video guida vi mostro l'utilizzo di free audio sheet burner un programma gratuito e semplicissimo utilizzare che vi permette di creare dei cd audio partendo da file in formato mp3 wav e wma come prima cosa vi ricordo di inserire nel masterizzatore il cd vergine con cui volete creare il vostro cd audio fatto ciò potete cominciare ad inserire le tracce audio all'interno del programma per fare ciò potete cliccare su sfoglia e andare a selezionare le varie tracce dei percorsi del vostro computer oppure potete comodamente trascinare i file all'interno della finestra ad esempio adesso inserisco un file in formato wav e un file in formato mp3 potete anche decidere di cambiare la sequenza delle vostre canzoni selezionandole e usando le frecce su e giù intanto che andate ad inserire le tracce all'interno del programma vedrete aumentare questa barra che va a segnare il riempimento del vostro cd audio un cd audio classico a una durata di 80 minuti con il bottone opzioni potete selezionare un altro masterizzatore se ne possedete più di uno potete selezionare questa voce che espererà il cd alla fine della scrittura potete cambiare la lingua del programma qualora non vi partisse in lingua italiana e aggiornare il programma tramite questo pulsante qualora ci fossero nuovi aggiornamenti una volta che avete inserito le vostre tracce audio non vi rimane che cliccare su masterizza in questo modo creerete il vostro cd audio con questo è tutto alla prossima